Si è svolto ad Andria un convegno in cui è stata presentata la formale adesione della città alla campagna regionale di legambiente Puglia Eternit Free. Una campagna regionale di informazione sul rischio amianto al quale il comune federiciano è il 72esimo ad aderire dall'inizio del 2015. Il servizio di Alessandra Tursilli. Un incontro ad Andria per parlare ancora una volta di amianto perché anche Andria ha aderito alla campagna di legambiente Puglia Eternit Free. Quali sono i rischi, ripetiamolo, e soprattutto quali sono le soluzioni? Innanzitutto siamo molto soddisfatti che questa campagna sta avendo molto successo. Dopo un anno siamo a 72 comuni che hanno aderito a Puglia Eternit Free. C'è un'impennata di telefonate al numero verde che provengono soprattutto dall'area metropolitana perché, lo ricordiamo, ha fatto un bando per la bonifica dell'amianto. I rischi sono sempre quelli. Si prevede un picco di mesotelioma pleurico nel 2020. Siamo nella terza era dei danni da amianto. La prima era riguardato chi estraeva questo minerale. La seconda era chi ci lavorava a contatto e la terza era purtroppo chi lo inala in maniera inconsapevole. È un nemico silenzioso, subdolo, che continua ad uccidere 4.000 persone all'anno ed ecco perché l'importanza di sensibilizzare i cittadini a bonificare. Molto spesso le bonifiche purtroppo vengono frenate dai costi di smaltimento dell'amianto. Ed ecco perché noi stiamo chiedendo alla Regione Puglia sia da una parte di stanziare dei contributi per i cittadini e dall'altra di iniziare a pensare a realizzare degli impianti di smaltimento dell'amianto perché i costi nascono anche dal dovere di smaltire questo materiale o in altre regioni italiane, a partire dal Piemonte o addirittura fuori dall'Italia. E quindi naturalmente questi costi esossi frenano i cittadini nel procedere alle bonifiche che purtroppo molto spesso procedono alla bonifica fai da te, quanto di più sbagliato possa esistere sia per la loro salute che per quella degli altri cittadini e smaltiscono poi in maniera illegale quest'amianto invece che rivolgersi ad additte specializzate. Ricordiamo che i cittadini possono avere un'assistenza chiamando il nostro numero verde 800 131 026. Un problema purtroppo abbastanza frequente nei giorni nostri, quotidianamente ci arrivano delle segnalazioni in ufficio ambiente di abbandono di lastre di amianto, di manufatti in amianto di qualsiasi genere, di qualsiasi forma. È un problema che ho evidenziato e notato subito dal momento in cui è iniziata la mia attività in assessorato e quindi abbiamo poi approfittato di questa campagna promossa da Lega Ambiente per iniziare una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini per invitarli ovviamente a partecipare a questa campagna segnalandoli sul sito della regione Puglia dove è previsto il portale, l'introduzione della scheda tecnica del manufatto oppure segnalandolo al numero verde proposto da Lega Ambiente in cui dei tecnici a livello del tutto gratuito possono fare dei sopralluoghi e fare un'azione di preventivo per quello che riguarda la rimozione appunto dell'amianto.